Musica Amici di Auto News, un cordiale benvenuto da parte di Carlo Braccini, vi presento subito il nostro ospite Paolo Lanzoni, benvenuto Paolo, responsabile comunicazione di Mercedes Smart avete visto alle nostre spalle, incombe questa bellissima Smart Cabrio della nuova generazione delle convertibili Smart Paolo sei venuto a trovarci qualche mese fa ormai per parlare delle novità che sarebbero arrivate di lì a poco, i grandi saroni internazionali, l'ultimo Ginevra all'inizio di marzo e insomma da allora però in casa Mercedes è successo di tutto, tantissime novità, veramente si fa fatica a stare appresso a tutte le novità che presentate Sì, il 2016 sarà un anno molto importante perché arriveranno 10 nuove Mercedes e tante nuove Smartine le 10 Mercedes sono sicuramente la classe E che è la Mercedes per eccellenza Di cui adesso parleremo Di cui parleremo oggi e poi tante tante vetture scoperte perché andiamo a rinnovare dalla SLK che cambia anche nome dopo 20 anni di onorata carriera diventa SLK seguendo i nostri nuovi nomi, l'ali di gabbiano, l'SL la rinnoviamo, la introduciamo S cabrio e C cabriolet quindi insomma tante tante novità, possiamo riassumere con la cabriolet più corta del mercato, 2,69 metri alle nostre spalle che è la Smart e la cabriolet più lunga che è la classe S Bene, di tutto questo parliamo in questa puntata dedicata appunto all'offensiva di prodotto del colosso Mercedes ma andiamo con ordine Paolo se siete d'accordo cominciamo da quella che tu giustamente hai definito la Mercedes cioè la Mercedes più importante per numeri, per impatto sul mercato, per tutto quello che ha sempre rappresentato fino a diventare il simbolo stesso della tecnologia, dello stile di Mercedes non è la miraglia però è quella più importante, la classe E Sì, la classe E è esattamente il cuore della gamma, il cuore della gamma Mercedes da sempre rappresenta al meglio i nostri valori che poi sono sempre gli stessi e li interpretiamo aggiornando di secondo i tempi, quindi fascino, perfezione e responsabilità la classe E di oggi arriva come decima generazione, completamente nuova nel design, nella tecnologia, negli interni, nei motori e pensate oltre 13 milioni di vetture vendute nel mondo, un successo strepitoso nella sua storia e per noi è la vettura più intelligente che esista sul mercato, per tanti tanti motivi Ecco, c'è poi questo fatto, ci sarebbe da parlare veramente per ore della nuova classe E lo faremo poi più approfonditamente nel corso dei nostri test però ecco la cosa che colpisce di più è quest'idea della guida autonoma ma sapete ormai ne parliamo da tanto tempo, questo concetto che si traduce poi nella realtà di automobili che arriveranno a guidare praticamente da sole con tutti i problemi che poi anche di concezione della guida che questo impone però adesso la classe E rappresenta sul mercato, secondo quello che Mercedes stessa ha dichiarato il gradino ultimo prima della totale guida autonoma, è così? Beh sì, è così anche quando l'abbiamo provata nei recenti test è stata un'emozione incredibile perché è giusto quello che dici te la tecnologia arriva sempre prima della cultura e anche ovviamente della legislazione pensiamo anche al codice della strada, al mondo delle assicurazioni ecco che impatto può avere la guida autonoma Ci sarà molto da lavorare su questo Evidentemente, ma il tema importante che sollevi qual è? Quello della guida autonoma non è un... Grazie